Doveva essere una settimana di divertimento senza genitori insieme agli animatori della parrocchia, ma per un gruppo di ragazzini delle scuole elementari e medie di Torreglia, il campo scuole in una località della Val di Nonne in Trentino si è trasformato in un'agonia. Una ventina di bambini delle elementari prima e una ventina di ragazzi delle medie poi, il giorno dopo l'arrivo, hanno iniziato a sentirsi male. Vomito, dissenteria e febbre alta, questi sintomi di quella che si è rivelata essere una forma forte di gastroenterite. Sembra che alcuni siano stati portati via in ambulanza. Provati dal vomito e dalla dissenteria, i bambini di Torreglia sono stati fatti rientrare in anticipo e il campo scuola è stato chiuso. I ragazzi erano alloggiati a Coredo, frazione del comune di Predaia, in provincia di Trento. Il servizio igiene del posto sta effettuando dei controlli sull'acqua, ma nell'albo pretorio del comune nei giorni scorsi è apparsa un'ordinanza firmata dalla sindaca che invita i cittadini a far bollire l'acqua per uso alimentare per tutte le utenze servite dalla rete aquedottistica della frazione di Torra. I genitori di Torreglia, preoccupati, sono corsi a recuperare i figli in montagna e ora chiedono chiarimenti sulla vicenda.